Ma uè, come va? Spero di trovarvi alla grande, non bene di più. Come promesso, nel video scorso mi avete confermato comunque anche che vi avrebbe fatto piacere effettivamente vedere quella che è stata la mia routine, quella che è la mia routine per raggiungere il peso che ho raggiunto, per fare la trasformazione ficca che ho fatto. Anche adesso possiamo dire che, anche se sono senza pump, questa adesso è la condizione attuale. Considerate che ho la barba, che è assolutamente da tagliare, quindi mi prende un sacco di spazio. E sembra che ho la testa gigante e il corpo piccolino. Però sì, essenzialmente adesso sono piccolino. Sono piccolino, sono arrivato. Guardate, vi faccio vedere subito perché ho trasposto tutti i dati. Sono arrivato, siamo arrivati a 86,3 di media. Comunque il trend è sempre in discesa. Questo è il peso. E comunque la linea di tendenza sta andando sicuramente verso la direzione che vogliamo. Questo che state vedendo, intanto, ho voluto trasporre tutti i dati sul mio TPA Pro. Così vi faccio vedere, vi posso far vedere le cose, ma non vado a utilizzare l'altro template che mi ha proposto il mio coach. Così non creo problemi da quel punto di vista. Quindi questo che state vedendo è il TPA Pro. Ho trasposto i dati. Dopo andiamo a trasporre anche quelli relativi all'allenamento. Così vi faccio vedere anche il TPA in azione. Ne approfitto per fare un po' di pubblicità, perché no? Comunque considerate che se volete il TPA ve lo lascio. Link in descrizione. E per festeggiare, visto che stiamo utilizzando il TPA per farti vedere questa cosa, te lo metto anche in sconto. Mega sconto. Solo per te che stai guardando questo video. Puoi utilizzare il codice sconto. Così te lo puoi portare a casa con un bello sconto interessante. Solo per te. Mi raccomando, se sei un coach o comunque se vuoi scrivere le programmazioni per i tuoi clienti, mi raccomando, dagli una bella occhiata perché è molto molto interessante. Torniamo a noi. Come vi dicevo, ho portato tutti i dati nel TPA Pro, così ve li posso far vedere. Siamo partiti per contestualizzare, a lavorare assieme dal 10 luglio, circa. E le pesate le ho iniziato a prendere dal 11 e ho iniziato a tracciare le calorie perché non le tracciavo prima, non le stavo più tracciando dal 13. La prima cosa che abbiamo notato è che stavo mangiando poche proteine, quindi abbiamo subito alzato la quota. Adesso mi aggiro sui 2 grammi per kg di posto corporeo, potremmo dire, anche se è un pelo di più. In modo tale da preservare comunque la massa muscolare. Le calorie sono molto molto basse e abbiamo voluto puntare di più sull'introito proteico rispetto al resto. Siamo arrivati ad alzarle soltanto nell'ultima settimana, che è qui, e che appunto corrisponde alla settimana di scarico. E abbiamo voluto anche elevare un pelo le calorie per stabilirci a una media calorica, un pelo più alta, per favorire quello che era il recupero della settimana di scarico. Adesso sono tornato ufficialmente a spaccare con l'intento di toglierci questo ultimo chilo di peso, perché comunque l'obiettivo è quello di arrivare a 85. Come vi avevo detto, ci fermiamo lì e poi si inizia con un periodo di mantenimento e si ricomincia con la salita calorica. Questo è esattamente come ho gestito, come sto gestendo l'alimentazione. Questo è il trend che stiamo tenendo in considerazione e adesso ci possiamo spostare effettivamente all'allenamento, che è la parte più, immagino, più interessante. Vi devo parlare anche del metodo di progressione, molto interessante, che sto imparando a studiare. Mi piace particolarmente tanto da starlo applicando anche ai ragazzi che seguo con il coaching. Per quanto riguarda l'allenamento, non voglio farvi vedere tutta la scheda. Magari vi faccio vedere, scriviamo una sessione assieme nel TPA, è una sessione di upper generica, così anche qua non voglio fare, non voglio creare problemi andando a proporre il lavoro di altri nei social network, così come se fosse roba mia. Ecco, se fosse mio non avrei problemi, però non lo è e quindi voglio evitare assolutamente. Quindi ci spostiamo al mesociclo 1 e come vedete è tutto in bianco. Adesso andiamo a riportarci, come dicevamo, la sessione di parte alta. Così vi posso far vedere anche più o meno come mi sto muovendo la sessione di parte alta. Ve l'ho fatta vedere la settimana scorsa a discarico, così non vi sto facendo vedere niente di nuovo e non mi metto problemi da quel punto di vista. Allora, ci facciamo un rematore seal, poi una lat machine presa neutra, panca piana manubri, croci al cavo alto, anche se comunque è unilaterale, ed era esattamente questo, che l'ho inserito da poco. cal, cal, cavo basso sbarra, wrench, press, cavo basso corda, che è essenzialmente da seduto. Non mi ricordo se l'ho inserita questa. No, ce l'ho, vabbè, cavo basso corda. E upright rows, cavo basso. Questa è la seduta di parte alta, il resto lo cancelliamo così ce lo teniamo pulito. Ho iniziato il lunedì 17 luglio al peso di 91,3. Ho modificato un po' il TPA in base alle mie esigenze, quello che vedete pubblico, il PRO, presenta anche qui la descrizione dell'esercizio che va a prendere in automatico. Adesso è formatato in maniera tale da rispecchiare quelle che sono di più le mie esigenze, quindi non è esattamente così. L'ho voluto impacchettare un po' di più rispetto alle mie esigenze, per l'appunto poi logicamente in base al professionista che va a utilizzarlo si può modificare nuovamente. Quindi io lo rinascondo, perché non è una cosa che voglio presentare. E ho lasciato l'opzione invece di lasciare il video che te lo va a prendere in automatico. Quindi ci scriviamo il numero di serie con cui ho iniziato. Le croci erano a 2, il resto è 2, 3, 2. E per quanto riguarda le ripetizioni ci muoviamo sempre su range, che è una cosa determinante da tenere in considerazione, perché adesso vi spiego anche il motivo che è molto molto importante. Allo stesso modo l'RPE. Quindi abbiamo 6, 7, 6, 7, 8, 8, 8. Ok, quindi la progressione è gestita in maniera molto molto specifica, anche per quanto riguarda effettivamente l'utilizzo dell'intensità percepita. Sarà quindi interessante applicare un sovraccarico progressivo basandosi principalmente su quello che è l'incremento dell'intensità percepita durante le sessioni. Quindi qui a tutti gli effetti possiamo andare a mettere fin da subito delle frecce verso l'alto, perché sarà esattamente quello che succederà di microciclo in microciclo nel momento in cui andremo, avanzeremo con le varie settimane. Qui anche no. Si va ad aumentare infine qui, perché la settimana numero 5 sarà la settimana rossa, quella più tosta di tutte. E poi la settimana 6 è quella di scarico, in cui invece si va a decrementare il numero di serie, si arriva a fare due serie per ciascun esercizio, e si va a decrementare anche l'RPE che arriva ad un RPE, come abbiamo visto, molto basso, che sta tra il 5 e il 6. Adesso scriviamo 5, tanto per rappresentare la situazione. Quindi questa è la programmazione, esattamente, la gestione della programmazione. Adesso vi spiego esattamente come si va a sfruttare la manipolazione dell'RPE nel corso del tempo, la progressione nel corso del tempo. Si andrà a sfruttare manipolando, il numero di serie rimane identico, ok? È rimasto identico, così come il numero di ripetizioni. L'unica variabile che nella prescrizione va a aumentare è l'RPE, nel caso del coach utilizza il RIR, ma io sto trasponendo tutto nell'RPE. Quindi si andrà a sfruttare il fatto che c'è una prescrizione di range di ripetizioni per mantenere lo stesso RPE in ogni singola serie. Quindi non vorremmo, nella singola sessione, far incrementare l'RPE nello stesso esercizio. Quindi dobbiamo sempre rimanere all'RPE prescritto. Quindi per esempio qui abbiamo 3 serie, da 6-10 ripetizioni a RPE 6, ed RPE 6 deve essere. Quindi devo selezionare un carico, diciamo 30 kg di manubri, che mi permettono di rimanere all'interno di questo range di ripetizioni, e che mi permettono di mantenere questo RPE. Quindi io sicuramente nella prima serie utilizzerò un carico che mi permette di rimanere nella parte più alta del range, e poi successivamente, sicuramente, volendo rimanere allo stesso RPE, volendo utilizzare sempre quei 30 kg, dovrò per forza di cosa eccedere con le ripetizioni. E quindi mi porterò a casa un 8, e poi mi porterò a casa un 7, un 6. E quindi mi sarò totalizzato 24 ripetizioni con 30 kg a RPE 6. Questa è esattamente la struttura che si va a utilizzare come metodo di progressione in tutti gli esercizi. Quindi è stata utilizzata questa struttura per tutti gli esercizi. Quindi considerando questo che abbiamo appena scritto, nella settimana seguente probabilmente andrò ad incrementare il carico, perché sono comunque riuscito nella prima serie a utilizzare, a rimanere nella parte più alta del range di ripetizioni, e quindi logicamente mantenendo lo stesso carico mi porterò di nuovo a casa un RPE 6 se dovessi arrivare a 10 ripetizioni, e non avrebbe senso. Quindi vado ad incrementare il carico, mi porto a casa un 32,5, cosicché la prima serie, magari non riesco a farmi le 10 ripetizioni, perché comunque l'incremento è importante, mi porto a casa un 9 più 7 più 6. Però sono riuscito a fare queste ripetizioni all'interno della serie, delle tutte le serie, rimanendo sempre RPE 7, che è stato quello assegnato. Questo è un modo estremamente efficace per manipolare la fatica, l'accumulo di fatica nel corso del tempo. Quindi si progredisce in questo modo fino al microciclo 5, che è quello in cui ci sarà un picco, quello in cui si andrà belli tosti, che sarà bella bella tosta la sessione, si andrà proprio a ricercare quello che è il cedimento, si accumulerà una marea di fatica, però sarà un accumulo di fatica ristretto a quel determinato periodo, fatica che poi verrà scaricata nella settimana seguente, che c'è la settimana di scarico, e poi successivamente si riprende il mesociclo riproponendo questa progressione. Questo a livello di bodybuilding credo che sia uno dei metodi più intelligenti, più tecnici per strutturare la progressione. E vi consiglio assolutamente di utilizzarlo, perché è molto molto bello, mi sto trovando molto molto bene. All'inizio sarà molto complesso, probabilmente a seconda della vostra mentalità, dal vostro approccio all'allenamento, tenderete a sovrastimare o sottostimare l'RPE, e quindi potreste arrivare a fine mesociclo estremamente affaticati, come è successo a me, oppure estremamente freschi. E allora anche questa comunque sarà una lezione da portarsi a casa per strutturare meglio, per approcciarsi meglio effettivamente a quella che è stata la prescrizione. Questo era il video. Ora, ribadisco, vi lascio il TPA Pro in sconto soltanto per le persone che hanno visto questo video. E visto che sei arrivato fino a qui, ti dico anche qual è il codice sconto che devi usare. Utilizza il codice sconto Ho visto il video, tutto attaccato, easy peasy. Quindi per premiarti che sei arrivato fino a qua, ti voglio far portare a casa il TPA Pro, e anche quello base, con uno sconto bello bello importante. Il video è finito, io ti ringrazio per la visione. Come sempre, se stai cercando un mentore, un coach che ti segua passo dopo passo nel tuo percorso di costruzione muscolare, di ricomposizione corporea e di aumento di performance, ti invito a passare dal link in descrizione, dovrai compilare un semplice modulo. Prenotterai una chiamata con il sottoscritto, parleremo della tua situazione, e da lì decideremo effettivamente se è il caso di iniziare una collaborazione assieme, e come farlo. Come sempre, se vuoi sostenere il canale, passa su Prozis, Kyle's in atletica, per cui utilizza il codice MITCH, per avere il 10% di sconto, più omaggi, per tutto il carrello. Io finisco di cianciare, ti auguro una fantastica giornata e serata, fatemi sapere, mi raccomando, che cosa volete vedere nel prossimo video, sempre inerente magari alla mia routine, e a questo percorso che sto facendo. Intanto vi auguro una fantastica giornata e serata, e ciao, grazie.